E' l'ottava giornata di campionato di eccellenza tra Spinazzola e Galatina. Al Coppi di Ruvo si affrontano due squadre dello stesso livello a pari punti in classifica ed è una sfida significativa in chiave playoff. Vince il Galatina sfruttando l'unica vera chance della partita da palena attiva e portandosi a casa tre punti pesanti. Dirige il match Saponaro dalla sezione di Foggia. Primo tempo, prima occasione per Molina, para a Dario. Quinto minuto ci prova Mbaie, il sinistro bloccato da Passaseo. Undicesimo, conclusione da fuori di Bux, troppo debole per impensierire la retroguardia del Galatina. Trentaquattresimo, squillo dello Spinazzola con il proprio dieci, Mbaie. Trova la conclusione dal limite, ottima la respinta di Passaseo. Trentottesimo, occasionissima Galatina con la ripartenza di Aguilera, il quale serve Molina che calcia sotto le gambe di a Dario, ma adeggiosa, salva sulla linea ed è anche fortunato in quanto il pallone si stampa sulla traversa, si resta sullo 0-0. Finisce il primo tempo senza ulteriori opportunità, match molto tattico ed equilibrato. Fino a questo momento senza troppi spunti offensivi da ambo alle parti. Secondo tempo, tredicesimo, ci prova Zingaro, palla a lato. Ventiquattresimo, ci prova lo Spinazzola con un colpo di testa non pericoloso. Bravo, Passaseo a respingere. Ventottesimo, opportunità Galatina con Candido che si ritrova il pallone sul suo destro, ma non riesce ad essere incisivo con il pallone che si spegne sul fondo. Trentatreesimo, occasione oltre Marini, numero 11, fa tutto benissimo, meno però. L'esecuzione. Trentottesimo, sempre l'undici del Galatina che si rende pericoloso con una buona giocata, ma trua l'opposizione del difensore lo pianizze. Trentanovesimo, si sblocca il match al Coppi. Dagli sviluppi di corner arriva la zampata vincente di Monteduro. Il calciatore in maglia 19 è il più scaltro in aria a calciare in rete per lo 0-1. Quarantasettesimo è l'ultima opportunità per pareggiarla da parte dello Spinazzola con Zingaro, pericoloso da calcio di punizione. Attento, Passaseo termina il match per 0-1 in favore del Galatina che sbanca il Coppi e si porta a casa tre punti pesantissimi in una partita in cui nessuna delle due squadre ha prevalso sull'altra, però Spinazzola arriva la seconda sconfitta consecutiva e domenica affronterà l'Unione Calciobiceglie, mentre il Galatina affronterà la capolista Barletta.